Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi faremo il video Ahimai Allora, qui, questa è la foto che avevo messo su Instagram in cui vi dicevo di scrivermi le domande per questo video Allora, cominciamo e iniziamo a vedere chi mi ha scritto il primo commento Ok, spero che si vede bene Ecco, mi ha scritto il primo commento I am an otaku Si scrive così Spero che metta a fuoco E mi ha scritto Hai mai pensato di fare un viaggio in Giappone? Sinceramente sì Praticamente volevo fare un viaggio in Giappone per il mio viaggio di nozze Nel senso quando mi sposerò, non so quando mi piacerebbe andare in viaggio di nozze in Giappone Perché io adoro il Giappone Adoro le ragazze che si vestono da cosplay Mi piace tantissimo E vorrei tanto provare anche io questa cosa Poi Vi faccio vedere chi mi ha scritto Ok, ho sbagliato John Circhirillo Che è un mio amico Mi ha scritto Hai mai fatto volontariato? Ho collaborato con un'associazione di beneficenza? Allora, come volontariato sì Praticamente qui nel mio paese C'è Come si chiama? All'oratorio Sono stata un po' di volte E ho aiutato le ragazze a gestire i bambini A fare qualcosa con loro Queste cose così Poi come associazione di beneficenza Sinceramente no Questo no Tranne che a volte Per delle feste Ci sono tipo delle Diciamo aste E ho dato delle cose Per E poi il ricavato va in beneficenza Poi Alice Rondelli06 Mi ha scritto Hai mai pensato di chiudere il canale? Sinceramente no Non ho mai pensato proprio di chiuderlo Hai mai fatto a botte? Sì 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 Ho fatto a botte Pan coniglio Cioè Ok Pan coniglio Voleva scrivere sicuramente Pan coniglio Perché io a mechiolina Lo chiamo sempre pan coniglio Sì Io vorrei la casa piena di conigli Perché È una piccola ossessione Io amo i conigli Poi Hai mai mangiato tanto da vomitare? Sì Poi Hai mai letto male davanti al pubblico? Sì Anche quello Hai mai pensato di volare? Hai mai pensato di volare? In che senso? Volare con l'aereo? Volare io? Questo non saprei Hai mai pensato che gli unicorni esistano? No Quello no Però credo che esistano i vampiri Hai mai mandato un'email per sbaglio a qualcuno? No Questo no Hai mai pensato di traslocare? Nemmeno quello Perché non mi andrebbe di andare a vivere Da un'altra parte Perché mi piace tanto dove sto Salutami Ti voglio tanto Ti voglio bene Ciao Alice Rondelli Grazie per tutte queste domande Poi Passiamo a Mattina Staibano E questo qui E mi ha chiesto Hai mai fatto un viaggio all'estero? E se sì dove? Allora Il mio primo viaggio è stato in Grecia Sono stata a Iera Petra Ed è stato bellissimo Poi E poi basta Sì sono solo stata in Grecia Come viaggio all'estero E poi Un'altra domanda Mi scrive Julie Skywalker Che è questo qui Questo canale è qui E mi ha scritto Hai mai pianto per una persona che è morta in un film? Sì Molte volte Per esempio Ho pianto tantissimo Quando è morto Non mi ricordo come si chiama nel film Comunque nel film A Chico Ho pianto tantissimo Quando è morto il padrone di A Chico Poi ho pianto a Diroccio Quando è morto anche Chico Proprio è stato un film della tragedia Poi Hai mai preso qualcosa da Starbucks? Se sei stata a Londra o in America No Non ho mai preso niente da Starbucks Perché non sono mai stata fuori Metti a fuoco Ok Poi mi ha scritto Alicrafty Ciao tesoro Hai mai desiderato di essere qualcun altro? Anche un personaggio famoso Sì Ho sempre desiderato essere la moglie di Brad Pitt Sto scherzando Cioè sì mi piace tanto Brad Pitt Ok Sono pazza Sì mi piace Mi piace da impazzire proprio Poi mi ha scritto Matilde Tirrenica Nuoto Hai mai pensato di recitare in un film Kawaii? Sinceramente non so cosa sono i film Kawaii Però mi piacerebbe Recitare in un film Magari una piccola parte così Soprattutto mi piacciono i film Quelli che parlano del proprio territorio Vi faccio un esempio Tipo Benvenuti al sud Cioè essendo che io sono al sud Sarebbe bello recitare in un film così Poi Manu Sabri Mi ha scritto Hai mai risposto male a un fan? Allora Proprio male a un fan no Perché tipo se Mi scrivete delle cose carine Io rispondo sempre Garbatamente Tranquillamente Ma poi quando ci sono delle provocazioni Poi lì divento Una bestia Provo a trattenermi Ma a volte è capitato che Ho proprio cancellato il commento Così evito di rispondere in modo sgarpato Perché non mi piace Cioè è contro È contro di me proprio Ciao guardate ci sono anch'io Ciao È proprio contro i miei principi Rispondere male Ah vi faccio notare Che ho cambiato telefono Come potete vedere guardate il treppiedi Ho cambiato il telefono E volevo chiedervi se vi va Che vi faccia un Cosa c'è sul mio smartphone Fatemi sapere Magari vi lascio Come si chiama Un piccolo sondaggino qui Mi fate sapere se Volete o non volete questo video Perché non l'ho mai fatto L'ho cambiato adesso È un piccolo Microsoft È troppo carino Comunque fatemi sapere se vi va Che vi faccio questo video E niente Spero che questo video vi sia piaciuto Ma soprattutto che vi sia stato utile Per sapere magari qualcosa in più di me E noi ci rivediamo al prossimo video Ciao Ciao